L'atteso potenziamento dell'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati, inserito nel Decreto Sicurezza del Ministro dell'Interno Matteo Salvini, raccoglie anche critiche ed allarmi soprattutto sull'utilizzo dei beni confiscati, cioè sottratti in via definitiva alla criminalità organizzata. Un utilizzo non sempre felice, con casi di immobili andati in malora e di aziende che hanno definitivamente chiuso le loro attività. Il Decreto Salvini prevede infatti interventi per potenziare l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia, prevedendo tra l'altro la possibilità di vendere i beni che non si riesce ad utilizzare per fini sociali. Dopo gli interventi di Don Ciotti, fontatore di Libere del Procuratore Nazionale Roberti, sulla difficoltà dell'associazione aggiudicataria dei beni confiscati, incapace economicamente di gestire gli immobili, oggi interviene il Presidente della Commissione regionale antimafia, che in una nota stampa dichiara, per le cosche poter riprendere possesso dei beni confiscati, anche riacquistando i beni stessi, rappresenterebbe una vittoria ed un segnale devastante. Evidentemente il Governo nazionale non si rende conto dell'impatto che tali misure possano avere, soprattutto in Sicilia. Per questo occorre che il Governo musulmè ci facciano sentire la propria voce, opponendosi a tali scelte, ritenute scellerate e pericolose. Sicuramente la Commissione regionale antimafia in Sicilia, con le altre commissioni regionali di inchiesta sulla criminalità organizzata, affronterà il tema.